Nel corso dell'ultimo weekend i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Lessinia, nel Veronese, nei pressi del rifugio Podesteria, nel comune di Bosco Chiesa Nuova, per soccorrere una mucca di circa 500 chili caduta in un avvallamento mentre era libera al pascolo. Giunti da Verona con un mezzo e cinque unità, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto e imbragato il bovino, dopodiché con il supporto del nucleo elicotteri, giunto da Venezia, lo hanno elitrasportato in zona sicura dove ad attenderlo vi era il proprietario. L'animale, ferito ad una zampa, è stato preso in cura dal veterinario presente sul posto. Le operazioni di soccorso si sono concluse nell'arco di quattro ore.